e saluto a tutti quanti ben ritrovati nella cucina di tommy the cooker oggi prepariamo un secondo piatto veloce e molto saporito bistecca la pizzaiola a modo mio cominciamo gli ingredienti sono costatine di vitellone pomodorini capperi aglio origano olio extravergine di oliva sale e pepe le bistecche vanno bene anche così io separo qualche parte di grasso solo per non far arricciare la carne ma lo metto comunque in padella perché dà sapore direttamente in padella mettiamo olio abbondante l'aglio io lo schiaccio ma voi potete metterlo a fettine accendiamo e facciamo scaldare inseriamo i capperi di salati come vedete procedo a fuoco molto basso pochi secondi inserisco anche i pomodorini che ho precedentemente tagliato a tocchetti adesso posso anche aumentare il calore appena si ammaccano un po inseriamo le bistecche inserisco la cottura è abbastanza veloce per quello ho messo i pomodorini prima della carne la carne è praticamente cotta aggiungiamo un po' di sale e l'origano una giratina e il gioco è fatto e il piatto è pronto buon appetito tenera come il burro buon appetito